Tu cosa hai presentato quest'oggi? Allora vi ho presentato una pasta, dei vermicelli con farina di carrube, della faraona, grilli di noce e mele secche. Per i vermicelli è solo farina di semola, farina di carrube e uova. Per la salsa abbiamo filetti di faraona marinati con un po' di timo, maggiorana e un grano di pepe, dei grilli di noce, delle mele secche, un po' di maggiorana, sale e pepe e una noce di burro. E alla fine condiamo il tutto con una generosa grattata di montaggio stravecchio. La ricetta di oggi è una ricetta che ha qualche anno e che a me piace molto. È un tortello fatto con castagne, formaggio di pecora, un po' di mascarpone e con un ragù di Germano Reale. Qualche candito d'arancio e il contrasto tra il piccante del formaggio di pecora e il dolce della castagna è quello che a me piace. La cucina non è fatta di segreti, sono cose curate, sono cose semplici ma di ricerca la cucina è una cosa semplice. Ho presentato le tre ricette della nostra piccola pasticceria, chiamate da noi dolci in vetro, hanno tutte una cosa comune che è un'attenzione all'intolleranza alimentare, tutte sono fatte con un pan di spagna di riso proprio per i ciliaci e così affinché anche loro possano mangiarsi il loro dessert. Tre piatti del cuore, tre piatti della tradizione e tre piatti che io vorrei mangiare se mi sedessi il giorno di Natale. La cosa che ci fa più piacere è ricreare un clima proprio familiare dove gli ospiti stiano bene, passano queste due o tre ore tranquillamente e assaggiano magari qualche piatto della memoria, proprio classici. Guarda, ho preparato una crema di patate mantecata con della trotta affumicata, delle uova di quaglia e pungitopo. Una ricetta così col pungitopo noi lo raccogliamo in primavera e lo conserviamo sotto olio. Abbiamo voluto portare il sapore della primavera fino a Natale, dai. Cosa hai presentato quest'oggi? La lingua, la lingua in questa stagione è fantastica, noi l'abbiniamo ovviamente con la mitica patata di Godia e l'abbiamo presentata in una maniera diversa, l'abbiamo tagliata a cubetto e poi l'abbiamo rosolata. Quindi regaliamo la lingua, questa parte croccante all'interno è molto succulenta e da mediatore, io lo chiamo mediatore di gusto, la patata di Godia ovviamente. Possiamo dire che la gastronomia friolana finalmente si colloca sull'altare della grande gastronomia internazionale. Penso che queste manifestazioni come oggi siano proprio una bellissima apertura per la gente. La regione è spettacolare, a livello di vino, a livello gastronomico siamo dei leader, quindi dobbiamo veramente far vedere tutto ciò che abbiamo, tutti i nostri tesori. Cantine Casule, insomma dietro ai grandi piatti, grandi vini. Sì, io ho ascoltato l'interessantissima conferenza che è stata fatta prima e mi sento in perfetta sintonia con gli indirizzi di questa iniziativa. Tipicità della cucina, tipicità del vino. Io contesto il gusto internazionale dei vini, io sono per i gusti locali dei vini, cioè quelli che riflettono il territorio e l'aria, le acque, il clima della zona. Forse il territorio di Pordenone così per nomea non è tanto vocato al vino, però invece sappiamo che ci sono degli ottimi vini anche in questo territorio. Io sono del parere che chi vuol fare del buon vino riesce a farlo in qualunque posto. Basta seguire attentamente delle coltivazioni accurate nelle vigne, delle tecniche accurate nell'allevamento delle viti e poi non distruggere un prodotto eccezionale di uva nella cantina. Se si seguono questi piccoli accorgimenti si possono fare dei vini che possono andare in concorrenza con qualsiasi altro, anche con quelli tanto blasonati delle zone culinari. Qui invece siamo con un personaggio molto particolare. Perché? Perché lui rappresenta un elemento fondamentale nel mondo dell'enogastronomia. Rappresenta il Vitigni, o meglio le Barbatelle. Lui è Giorgio Giacomello. Parliamo dei vivai cooperative di Rauscedo. Grande realtà storica, 75 anni di cooperativismo. Obiettivo unico per tutti i soci, lavorare tutti, commercializzare solo uno. Siamo partiti da aziende 75 anni fa e subito dopo gli anni 30 a livello familiare. Poi visto che la concorrenza fra noi era spietata abbiamo deciso che un solo venditore è quindi formata la cooperativa. Oggi siamo presenti in ben 32 paesi al mondo, dall'America Latina, la Cina, al Nord Africa e tutti gli stati europei. Abbiamo una royalty in California che si chiama Nova Vine e poi abbiamo altre consociate tipo VCR France che ha la sede in Francia e quindi commercializza per tutto il mercato francese. Ecco però Giorgio, io sono stato a visitarvi e ho visto veramente una cosa straordinaria. tantissima gente a fluire presso la vostra sede per selezionare un'enormità di barbatelle. Il numero di barbatelle è enorme considerando la nostra mole. Siamo i primi produttori, abbiamo raggiunto anche 80-85 milioni di piante e siamo la prima realtà nel mondo considerando che la seconda fa poco più di 7-8 milioni e quindi è in realtà grande, grandissima. Quanta emozione c'è nel sapere che da Rauscedo, quindi dalla vostra azienda, partono i vitigni che poi andranno in tutto il mondo a creare del vino straordinario? Beh, è un grande orgoglio per tutti noi che siamo adesso, ma un grande orgoglio e un grande rispetto per chi ha avuto questa intuizione, questa idea, chi ha sacrificato, sudato sangue, grandi sacrifici in passato e faremo il possibile per cercare di consegnare ai nostri figli un'azienda ancora sana e ancora con grande rispetto e con grande credibilità a livello mondiale.